qualunque caso ti capiti epiteto 50 130 dopo cristo filosofo greco in il manuale dice qualunque caso ti capiti ricordati di ritrarti in te stesso cercando come puoi trarre vantaggio vedi un bel giovane o una graziosa ragazza cercherai d'aver continenza se ti si fa incontro fatica procurerai d'aver pazienza dolore tolleranza e così fatta questa abitudine non sarai più vittima delle apparenze commento vivendo intimamente rivolgi ogni circostanza al bene